Buonasera cari amici e benvenuti al pronostici della sesta giornata di serie A turno infrasettimanale che inizia proprio stasera con Inter-Fiorentina sarò velocissimo e allora Inter-Fiorentina do subito l'1 all'Inter che secondo me oggi vincerà dando continuità al successo di Genova e alla vittoria in Coppa contro il Tottenham quindi la Fiorentina è sicuramente in forma ma l'Inter secondo me in questo momento vincerà Udinese-Lazio questa è una bella partita, si gioca domani alle 7 le uniche due fuori orario e poi qualche partita giovedì ma Udinese-Lazio molto dura come partita secondo me un pareggio potrebbe essere il risultato finale giochiamoci l'X Atalanta-Torino, l'Atalanta non è in formissima però credo che il pareggio all'ultimo secondo a San Siro possa dargli un po' di linfa e Torino che ho visto domenica è veramente un Torino a pezzi quindi 1-Atalanta Cagliari-Sandoria, qua gioco il 2 della Sandoria che deve riprendersi sconfitta in casa, vittoria fuori di Senere le cose stanno così Genoa-Chievo e qua darei l'X2 al Chievo perché il giorno l'ho visto veramente veramente male Juve-Bologna queste sono tutte i mercoledì Juve-Bologna e qua io credo l'uno poi al di là di tutto ma credo che la Juve abbia una scuola così forte a parte che, questo lo dico quest'anno la Juve la vittoria la darò sempre nel senso che darò in qualche partita un po' particolare la doppia chance ma una vittoria la Juve secondo me bisogna darla quasi non dico per scontato ma una forza così elevata che è difficile non dargli è come il Napoli anche il Napoli, devo essere sincero anche il Napoli l'ho fatto così l'anno scorso quest'anno ho avuto un po' di meno la Juve quest'anno veramente mi dà una sensazione di una scuola così forte che se non devi per forza dargli la doppia chance al limite però credo in casa col Bologna la Juve vinca quindi 1 Napoli-Parma anche qua senza perdere troppo tempo il Napoli secondo me vincerà col Parma Roma-Frosinone io ho visto Frosinone e ha giocato una partita faticando tantissimo questa la pagherà secondo me quindi 1 Roma nonostante il disastro della Roma-Bologna credo che la Roma vincerà in casa col Frosinone giovedì Spal Sassuolo alle 7 qua do al 2 al Sassuolo e giovedì alle 21 do la vittoria del Milan a Empoli per quanto riguarda i diritti televisivi Empoli-Mila Roma-Frosinone e Juventus-Bologna saranno su Dazon tutte le altre su Sky ragazzi io chiudo qua il video spero che vi sia piaciuto chiaramente ditemi sempre qua sotto tutti i vostri pronostici e a me non resta che salutarvi dall'appuntamento con i prossimi video del canale ciao